Perla Vatiero e Mirko Brunetti tornano a risentirsi, per ora solo segretamente. Meglio, sempre. La storia d'amore fra Mirko Brunetti e Perla Vatiero è veramente finita. Secondo le ultimissime indiscrezioni, i Perletti sarebbero tornati a sentirsi dopo la rottura di inizio mese. Infatti il 3 di questo mese i due hanno annunciato la fine della loro relazione, ma secondo le ultimissime ci sono delle chiarissime voci che ci raccontano di un riavvicinamento. Perla Vatiero e Mirko Brunetti hanno ricominciato a sentirsi. Dopo mesi di difficoltà di incomprensioni Mirko e Perla, come annunciato dai diretti interessati sui social, si sono ufficialmente lasciati. La rottura non è arrivata come il classico fulmine a ciel sereno, dato che da settimane si parlava di tensioni tra i due. Qualcosa si è rotto questo è sicuro, ma i fans hanno notato anche che Coppia si è comunque lasciata con parole d'affetto e di rispetto. Perla Vatiero parlando di Mirko Brunetti ha parlato di un amore immenso, mentre Mirko ha inserito Perla tra le persone più importanti della mia vita, sarà sempre parte di me. Smentendo anche le voci che parlavano di problemi con la famiglia di lui nei confronti della famiglia di lei, voci smentite fermamente anche da Perla e sua sorella. Ma la storia potrebbe non essere conclusa infatti, secondo quanto svelato da Dejanira Marzano. Perla Vatiero e Mirko Brunetti starebbe continuando a sentirsi dopo la rottura privatamente, insomma senza parlarne in pubblico. Perla e Mirko si stanno risentendo. Ha scritto l'esperta di gossip tra le sue storie pubblicate su Instagram, non escludendo quindi che fra di loro ci possa essere un possibile riavvicinamento tra i due ex protagonisti del GF. Sicuramente per ora non è un rapporto chiuso. Al momento non registriamo altre conferme, ma insomma se si esposta alla gossipara Dejanira Marzano vuol dire che qualcosa bolle in pentola. Grazie a tutti.